Buonasera, volevamo delle informazioni su questo stand. In che senso? Che cosa proponete? Come le è sembrata l'organizzazione fino adesso? La manifestazione come? Abbiamo tre aziende, il Cavaliere Pepe di Luogo Sano, un'altra azienda di Montefalcione in Montantico, l'altra di Tufo, le Otto Terre. Come le sembrano questi vini fino adesso? Direi ottimi, rispettano quantomeno il disciplinare, va bene la temperatura di servizio e nonché l'affluenza delle persone. Come le è sembrata l'organizzazione quest'anno? Ottima. Il primo anno che viene? No, io sono una veterana.